Eccolo. È lui il motore di questa storia. Carmine non sapeva che, per colpa di questo orologio, l'avrebbe incontrata di nuovo. Da quando l'aveva conosciuta, lei gli aveva sempre causato problemi. Per ascoltarla, aveva commesso un sacco di errori e da quando poi lei aveva cominciato a vivere stabilmente con lui, la sua vita era diventata un inferno. Non gli permetteva di fare nulla. Ogni volta che voleva fare qualcosa di importante, lei trovava sempre il modo di ossacurargli la strada. Voleva cambiare lavoro e lei cominciava a dirgli ma perché stai così bene qui, lasci il certo per l'incerto. Oppure quella volta che aveva trovato una casa più grande e voleva comprarla e lei ma no, ti accolli questo mutuo e se poi non ce la fai a pagare. Doveva dire sempre la sua, su ogni cosa. Non voleva che prendesse l'aereo. Gli impediva di litigare col vicino. Non gli faceva tenere in braccio il figlio appena nato e gli aveva anche impedito di comprarsi una moto. Quella sera era da un po' che non la incontrava. L'ultima volta era venuto a trovarlo quando era ricoverato in ospedale per accertamenti. Per forza voleva convincerlo che si trattasse certamente di qualcosa di brutto e gli aveva reso quei giorni un inferno. Non si aspettava di incontrarla di nuovo proprio quella sera. C'era un clima così piacevole, con quel venticello che preannuncia l'autunno. Stava tornando a casa. Era quasi arrivato all'altezza del suo palazzo quando svolto all'angolo e vide un ragazzo che veniva nella sua direzione. Il rumore di uno scooter ruppe il silenzio. La moto bloccò la strada al ragazzo. Un uomo scese, gli piombeò addosso e il ragazzo cominciò a urlare. Carmine avrebbe potuto intervenire, prendere quell'uomo alle spalle e sarebbero stati in due contro uno. Avrebbero potuto metterlo in fuga. Ma lei era arrivata proprio in quel momento ed era dietro di lui e gli diceva non andare. Non puoi sapere come va a finire. E Carmine non andò. Il ragazzo oppose resistenza e lui vide il braccio di quell'uomo sferrare un colpo nel ventre del ragazzo. Pochi secondi dopo lo scooter si allontanava di corsa. Carmine allora si avvicinò al ragazzo che si era accasciato al suolo. Il sollevò dalla testa. Dalla bocca del ragazzo usciva un filo di sangue. L'orologio, disse il ragazzo. Si è preso l'orologio e chiuse gli occhi. E nel frattempo si era allontanata. Se non le avesse dato retta, forse quel ragazzo sarebbe stato ancora vivo. Ma non era andata così. troppo spesso rende godardi la paura.